Fammi, è carestia! Oh! Ragazzi, sembra che state facendo un favore voi a me! Guardate, io po', eh? Signora la legge, io po', eh? No, vedo c'ha già un po' di pavetta da Ferrari, un po' eh? C'è dopo un Deprifiumbre e un Deprifiumbre? Come siamo? Siamo per te, un Deprifiumbre! Due cimali per la Signora! Se la sente male, io po', eh? È un'esperienza, signora! Oh! E lo so, c'è rimasto male, signora! Eh, lo so, signora, ma non volevo imbiliare il suo marito accanto, sa! Sono quelle esperienze, come si dice per quel famoso detto che dice, dopo aver visto l'Everest, tutto il resto è la Zanulina.